datemi una mano ad avere ciò che era mio che mi ero conquistato senza chiedere aiuti, soldi a nessuno iscrizione gratis e campanellina perché ora si fa sul serio ora incomincia la zona hot ok quindi non si scherza più ragazzi a partire dalla partita di domani allora continua allora io innanzitutto premetto che io ho aperto un canale per parlare solo dell'Inter e di calcio e come ho sempre detto se avessi più tempo non parlerei solamente dell'Inter parlerei del campionato italiano dei campionati esteri anche perché ora un po' meno famiglia, bimbi, lavoro un cane, un gatto hai sempre meno tempo a disposizione ma io comunque sono sempre stato uno che guardava 3-4 partite di giorno l'ho fatto per tantissimi anni ho avuto la fortuna di giocare a calcio quindi a differenza di qualcuno che ci lavora e che ci prende lo stipendio io so distinguere una palla da bowling da una da calcio motivo per cui riallacciandomi alla partita una piccola infarinatura alla partita di domani normale Lukaku non sia nemmeno presentabile in panchina mentre qualcuno te lo dava per titolare ma perché? perché ormai sono talmente abituati a dirti che va tutto bene è tutto a posto che anche se un giocatore è infortunato loro te lo mettono in campo perché quello che riguarda l'Inter sono mentalizzati come i cavalli qualsiasi cosa riguarda l'Inter deve essere a posto e va bene perché gli viene commissionato questo gli viene commissionato a certa gente che anche su YouTube ti dire che va tutto bene loro agiscono per commissioni non è che ti dicono la verità loro vengono commissionate delle cose e te le ributtano su YouTube il problema è che ormai visto anche i risultati scadenti delle bagianate dette ormai le persone incominciano a non chiederci più tipo che Octree con i soldi di Octree che abbiamo sempre detto in questo canale che non potevano essere usati per il calcio mercato per gli ingaggi c'è anche un contratto basta leggere il contratto per capire e quei soldi li potevi usare solo per le spese vive qualcuno vi ha detto che grazie ai soldi di Octree anzi qualcuno vuole far passare che Zang ha tirato fuori 100 milioni e che Zang rinnova a Skrignar quando fino a un mese fa c'erano problemi a dare 80.000 euro in più ad Ascelbi lo so che lo state accendendo e che l'avete sempre acceso il cervello vi rendete conto cosa vi stanno dicendo non solo sono soldi che erano le controllanti non si potevano toccare ma li vogliono far passare anche come soldi di Zang e come aumento di capitale una roba assurda cioè secondo me la stampa sta raggiungendo dei livelli scandalosi rischiano veramente che la gente si rompa le scatole e che nemmeno più quelli della vecchia generazione abituati alla carta al profumo della carta rischiano veramente che anche loro si rompono le scatole e che si comprino un telefonino di ultima generazione o un computer per leggersi il giornale tutte le mattine in pdf e questo quello accadrà se continueranno così anche perché per quanto concerne poi questi americani qualcuno vuole far passare addirittura un messaggio che ora sono arrivati questi americani dopo l'indiano ora è arrivato in marocchino che ora sembra che voglia vedere i conti dell'Inter e che con un diktat alle porte con tutto quello con la situazione economica dell'Inter disastrata vogliono farti passare che ora questo americano guarda i conti e che in un paio di settimane compra l'Inter e questo che le ti vogliono far passare e sembra che tra i giornali italiani non lo so se ci sono dei contratti di mezzo prima dell'uscita non so se ci sono degli accordi c'è come dicevano anche i ragazzi in chat c'è questo commiato verso Zhang che secondo me è concordato prima dell'uscita Zhang tiene screen Zhang fa aumento di abitale 100 milioni e qualcuno ci casca anche è una roba assurda e poi come mai i giornali indipendentemente da quello che uno dice perché ragazzi qui ognuno può dire tutto quello che gli pare però vi spiegate come mai solo in Italia si parla di americani e in tutto il mondo parlano di questi arabi compreso il Washington Post che due mesi fa ha riconfermato quello che disse a Gennaio che l'Inter l'ha comprato a Piff non il vernacoliere di Livorno il Washington Post perché tutto il mondo parla di arabi e solo in Italia si parla di americani per come la vedo io è una supposizione può essere sbagliata eh ci mancherebbe c'è una specie di contratto tra la stampa e Zhang per farlo uscire nel migliore dei modi e hanno messo in atto questo commiato TNS Skriniar cento milioni di ricapitalizzazione Zangara doppia poi ci sono questi commissionati ci sono mi avviso dei giornalisti commissionati che devono dire per forza quelle cose là altrimenti non si spiega perché poi dopo ti ritrovi un Effenberg che lo fa per divertimento su YouTube e ti sverniscia subito e il problema è che Effenberg quando parla Effenberg tipo ieri sera che era ospite dal mondo Inter non solo Effenberg negli esoni dati ma ormai quando parla Effenberg viene ascoltato da 20-25 mila persone grazie al lavoro al buon lavoro che abbiamo fatto cioè quando parliamo noi abbiamo più seguito di canali da 30 mila persone soprattutto quando facciamo puntate sulla società non ho problemi a dirlo dov'è il problema scusami si sta mi arrumando nulla quindi per quello vi dico di iscrivervi perché la nostra voce diventa sempre più potente e poi tanto alla fine lo vediamo alla fine vedremo vedremo se sarà come abbiamo detto noi oppure no a quanto pare intanto abbiamo già fatto uno step avanti con tutta la stampa con tutti i giornalisti che dicevano Zang sarebbe andato avanti fino a 2024 intanto hanno capito che Zang sta vendendo e forse qualcuno lo sapeva ma non lo poteva dire sicuramente non su YouTube io parlo di giornali importanti poi riusciranno vedrete a capire intanto dall'indiano siamo passati al signore che è marocchino insomma non so se ha doppio passaporto marocchino americano non lo conosco che ha un miliardo e otto di patrimonio siamo passati comunque al marocchino dal marocchino passeremo all'egiziano e ci avvicineremo a ci avvicineremo sempre di più verso l'arabo alla fine anche perché non c'è mai nulla di concreto sì c'è questo interessato ormai se trovano uno americano che gli piace il calcio gli fanno un'intervista ma a te piace il calcio sì bene compri l'Inter vieni 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 ma come io ho detto che mi piace no no te ora compri l'Inter vanno sui giornali in Italia eh americani per l'Inter e questo ve lo sta succedendo dicono tutti i nomi stanno facendo una lista di tutti i nomi di tutte le nazionalità tranne di quella giusta ed è un modo per nascondere il nome vero questo di chi acquisirà l'Inter che saranno i sauditi poi lo vedremo in fondo lo vedremo se saranno i sauditi oppure no però c'è capito c'è questo voler ripulire Zhang a livello di immagine anche se ormai i tifosi non lo vogliono più vedere nemmeno dipinto sul muro perché la gente si scorda soprattutto chi lavora con il calcio la gente si scorda che nel calcio stesso non esiste la riconoscenza il calcio è spetafono quindi c'è una stampa e per assurdo dà contro l'Inter ma non dà contro Zhang e ci sono poi dei tifosi tutti i tifosi quelli che almeno hanno due neuroni collegati che non vogliono più vedere questo presidente ma perché perché ti dicono ma cosa ci fai se non puoi più spendere come vuoi andare avanti stai stai facendo un biliardo di debiti dove vuoi andare no quindi questa è la situazione attuale poi io ripeto per come la vedo io domani la partita di domani secondo me viene un po' sottovalutata perché è uno spartiacque è una partita fondamentale e lì domani si vede chi ha le palle per stare all'Inter dall'allenatore secondo me non è tanto adatto a stare all'Inter non ho problemi a dirlo giocatori tanti giocatori che ci sono sono adatti ma tanti altri no a stare all'Inter sempre per come la vedo io quindi l'ambiente sarà sarà non rovente di più al primo passaggio sbagliato è probabile qualcuno fischi e non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbe accadere in caso di sconfitta domani anche perché ti voglio dire una cosa forte ora ma non ho problemi a dirtela perché tanto io non cerco consensi su YouTube è normale l'ho detto mille volte mi fa piacere gli iscritti le tantissime visual tanto seguito tutti gli iscritti sono iperattivi non sono cioè lo dico non ho problemi a parte chi diceva che Lukaku avrebbe giocato a titolare sarebbe stato a titolare io ti dico il fatto che manchi Lukaku secondo me è un vantaggio perché comunque è una coppia di attaccanti consolidata che si conoscono bene che l'anno scorso hanno fatto un gran bel campionato Gekko Lautaro perché se devi avere perché se tu avessi avuto Lukaku al 50-60% molto probabilmente avrebbe giocato ancora non si è integrato e potrebbe aver creato potrebbe reare dei problemi Lukaku che ancora non sta bene fisicamente perché non è un giocatore di classe Lukaku Lukaku è un grande centro avanti perché è un animale fisicamente e ovviamente ha tanto fiuto del gol ci mancherebbe ma il suo punto di forza non è la tecchina che il giocatore tecchino può sopperire tranquillamente a un calo di condizioni o una condizione diciamo precaria no Lukaku deve essere in forma fisicamente per essere devastante perché se non è in forma Lukaku diventa un punto di riferimento per i difensori facile da marcare ecco perché da un lato è meglio non ci sia Lukaku anche al 50-60% perché almeno gioca chi si conosce bene gioca gli sta bene ora di bala o non di bala io spero innanzitutto di bala non giochi come tutti voi vediamo un attimino come come si evolve anche la forma dei giocatori come chi sarà chi sarà titolare chi non sarà titolare sembra che giochi aslani vediamo se Inzaghi avrà il coraggio di far giocare aslani questo poi dopo faremo un video magari anche nelle prossime ore per capire chi sarà titolare domani perché ragazzi domani chi va in campo domani chi va in campo si deve prendere le 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 proprie responsabilità perché domani l'Inter ha solamente un risultato che è la vittoria perché anche un pareggio domani soprattutto se vincano quelle davanti equivale una sconfitta io te lo dico ci siamo capiti lascia perdere me l'ho scordato lascia perdere i giapponesi ciao Inter grazie a tutti grazie a tutti